Per i docenti, richiedere i testi su Pandora Campus è molto semplice. Entra nel sito www.pandoracampus.it. Se si possiede già un account su Pandora Campus, per prima cosa occorre effettuare il login, selezionando il tasto apposito sulla destra. Se non ci si ricorda la password, è disponibile i servizi di recupero. Se invece non si possiede ancora un account, è necessario crearne uno compilando tutti i canti. Una volta fatto il login o creato un account nuovo, la piattaforma in automatico si sposta nell'area I miei libri, dove sono raccolti tutti i volumi a cui si ha accesso. La prima volta la pagina sarà vuota. Cliccare sul logo in alto a sinistra e tornare nella homepage. Dalla homepage di Pandora Campus, nel riquadro al centro Professori, selezionare richiedi l'accesso a un libro. Compilare i campi del modulo di richiesta e selezionare il testo che si vuole visionare. È possibile scegliere anche più di un voluto. Arriverà una notifica della richiesta inondratta e una seconda mail di conferma.